Ciao bella gente! Allora, siamo al... innanzitutto grazie di essere qui in questo secondo round del Q&A question and answer, domande e risposte che mi avete fatto nel post che avevo fatto in community. Il primo video è durato oltre 20 minuti, quindi ho detto no basta mettiamoci un punto e facciamo due round e se non l'avete visto potete recuperarlo sul canale, se me lo ricordo ve lo metto qui nelle schede, insomma lo trovate da qualche parte. Allora, continuiamo a corrispondere alle domande. Elena Mantovani mi dice Ciao Monica, grazie per l'opportunità, grazie a te e grazie a tutti voi che avete voglia di interagire con me facendomi domande. Mi piacerebbe sapere se eventualmente come hanno cambiato la tua vita i social, i benefici e gli svantaggi e poi qual è il tuo concetto di amicizia. Ah, si comincia a leggeri. Allora, beh, i social mi hanno sconvolto la vita ovviamente perché se si usa il social così come molti fanno per passare il tempo poco cambia, anche se credo che un po' i social abbiano cambiato la vita un po' a tutti. Se lo usi, insomma, a livello diverso come faccio io, è molto, te la cambiano e come è impegnativo stare sui social. Ti ripeto, vi ripeto, se lo vuoi fare così per passatempo è un conto, ma se cominci e ti apri un canale, poi due canali, poi tre canali, oppure se stai dietro, poi adesso il ventaglio di social è enorme, soprattutto se lo fai anche un po' come lavoro, che questa cosa ti occupa a tempo pieno e mi è andato un peletto negli occhi, cioè stare sui social ti occupa a tempo pieno, la vita te la cambia, ma tanto, tantissimo. Allora, devo dire che l'impatto è stato, se devo fare un insieme di, nell'insieme, devo dire che l'impatto è stato positivo, perché comunque per mie difficoltà personali mi sposto poco, pochissimo, e quindi la possibilità di interagire con le persone senza dover prendere la macchina e fare viaggi o senza dover uscire per me è stata fantastica. Poi, vi ripeto, li uso i social proprio per fare video, per parlare con la gente. Ti rendi conto che questi sono sicuramente i benefici. Lo svantaggio dei social è soprattutto, se lo fai appunto anche per lavoro e non solo per passatempo, è che rischi di farti travolgere, di farti assorbire troppo da questa modalità. Infatti, ora è già un po' di tempo che ho cominciato ad allentare su molte cose, perché rischi di non vivere più le cose perché le stai vivendo, ma perché le stai postando. E quando mi sono accorta che era diventato un po' troppo, ho detto, ok Monica, fatti questa domanda, ma quello che sto postando è interessante, è utile, a chi serve? Con questo non voglio dire che tutti i contenuti che porto siano contenuti di altissima qualità, però a volte magari faccio un video e dico, ah, lo può, e poi lo guardo e dico, ma che senso ha che posti sta roba? Oppure a volte mi piace fare i video quando cucino, no? E lì faccio più che altro degli shorts, perché comunque fare video di cucina è molto impegnativo. Faccio più che altro degli shorts, faccio delle storie su Instagram, ma anche quelli, a volte li posto e a volte dico, no, via, non c'ho voglia. Ora cucino e basta, penso a cucinare. Quindi, ecco, bisogna imparare anche a gestirli, perché sennò finisce che diventa tutto social, tutto postare, cioè anche le rarissime volte che siamo andati a cena fuori con mio marito, ho detto, l'ultima volta mi sembra, guarda, facciamoci una foto giusto per mettere che una volta ogni tanto anche noi si vada a qualche parte e poi basta, poi via il telefono, non mi metto più a fotografare piatti, non mi metto più a condividere ogni singola cazzata che faccio e penso che sia giusto, sia per chi mi segue, perché anche un bombardamento continuo può risultare pesante, ma anche per me, perché comunque per quanto ami condividere bisogna imparare anche a condividere quando vuoi condividere e soprattutto a scegliere un po', non lo so, almeno per me è così, perché appunto lo svantaggio può essere che poi diventi dipendente dai social, dipendente dai like, dipendente dalle interazioni e non è bello, perché sembra che la tua vita vada a punteggio, no, poi. Quindi i social molto utili se usati bene, soprattutto appunto per persone come me che altrimenti non, cioè io grazie al canale sto conoscendo un sacco di gente, anche quel discorso sto invitando le persone come ospiti qui sul vlog e anche quello è un arricchimento, perché la gente viene da me a trovarmi, alcune le conosco già, altre no, altre proprio le ho contattate e ci siamo proprio per dire ah guarda dai vieni facciamo il video e quindi è un'interazione che io non devo spostarmi, non devo andare a mettermi in una situazione di fatica o di stress perché le persone vengono da me, quindi questo è utilissimo per me il social, oppure anche sul canale smr, da quando ho fatto i video con persone reali senza contare che sono video che vanno abbastanza bene, seppur per me siano molto impegnativi da un punto di vista di fatica, di farli, però sono anche arricchenti perché vengono persone, cioè quando l'altro giorno una ragazza si è fatta tre ore di viaggio per venire da Perugia, l'ha accompagnata la mamma, ha fatto il video, ci siamo conosciute, si è fatto due chiacchiere e poi si è rifatta tre ore di viaggio, solo per conoscermi perché oltretutto non era nemmeno una ragazza che voleva farsi pubblicità per niente, quindi ecco questo è un regalo immenso che io ho potuto avere grazie ai social, sicuramente ci ho messo del mio perché si usano in tanti modi social, no? Il mio concetto d'amicizia, mamma mia che discorso lungo, a me mi sa che ci avevo, Elena mi sa che ci avevo fatto un video sull'amicizia, non me lo ricordo, ne ho fatti talmente tanti, il mio concetto d'amicizia, il mio concetto d'amicizia è esserci, esserci per l'altro senza giudizio, riuscire ad avere capacità di ascolto e una cosa che sto imparando di recente bisogna, me lo dico a me, bisogna anche veramente imparare ad ascoltare e bisogna imparare anche a non dare consigli non richiesti, nel senso l'amica ti viene a trovare, l'amico ti viene a trovare, ha bisogno di parlare, lo ascolti, punto, e a me invece verrebbe sempre a dire ma fai così, fai cosa e su questo ci sto lavorando perché amicizia è anche rispettare l'altro in ogni senso, magari l'altro ha solo bisogno di parlare, se poi l'altro esplicitamente ti chiedo un consiglio e glielo dai, però ecco sì, amicizia è esserci fondamentalmente per l'altro in modo semplice, in modo pulito, senza interessi dietro, quindi diciamo un po' questo, spero di aver risposto alle sue domande. Allora poi c'è Anne Moon che mi dice cosa ne pensi della legge dell'attrazione, la pratichi, se sì pensi che funzioni? Allora cosa penso della legge dell'attrazione? Devo dire che sulla legge dell'attrazione ho modificato un po' il mio modo di pensare nel corso di questi anni, in realtà non l'ho mai praticata veramente, all'inizio insomma quando ti avvicini a certi argomenti, poi su youtube c'è di tutto di più, ti arriva appunto non gli vendi Dio e io sono curiosa, ho ascoltato video di tante persone, poi fai delle scremature e adesso ci sono dei canali che seguo con tanta stima e li seguo proprio quasi come una terapia, mi servono proprio per me, per la mia vita, per capire cose di me, per capire tante cose, li seguo e sono canali veramente arricchenti come Scuola non Scuola o come i video di Giorgia Sitta della libreria Cavour, Giorgia Sitta non ha un suo canale, però tanti video li pubblicano sulla libreria, sul canale della libreria esoterica Cavour. C'è stato un periodo anche in cui ho guardato dei video sulla legge dell'attrazione e secondo me c'è, ecco, nel mio percorso attuale, dopo anni di letture e percorsi, ecco, cosa penso adesso della legge dell'attrazione è che ci sia dietro un po' di fuffa, nel senso che se per legge di attrazione si intende che riceviamo le vibrazioni che emettiamo, allora sì, se io emetto vibrazioni basse, sto su canali basse, sono incazzata, sono arrabbiata, sono gelosa, sono invidiosa, andrò ad attirare verso di me quelle vibrazioni lì che circolano. Quindi se per legge dell'attrazione si intende questo, ok, se per legge dell'attrazione intendi, ah ora mi metto qui, visualizzo la macchina, visualizzo la macchina, visualizzo la macchina e la macchina arriva, no, mi sembra un po' una cavolata, anche perché mi sto rendendo conto che a volte quello che noi desideriamo e che pensiamo sia meglio per noi probabilmente non lo è, quindi se io desidero tanto una cosa e questa cosa non arriva, sì, la mia parte egoica, la mia parte di personalità ci rimane malissimo, perché tipo io voglio centomila iscritti sul canale e ci rimango male, perché mi sono fatto un culo così e centomila iscritti non ce l'ho, sto parlando dell'ASMR ovviamente qui, sì, ciao, se si arriva a diecimila già e si stampa la spomante. Quindi io ci rimango male, perché col culo che mi son fatta in otto anni, secondo me mi meritavo di avere questi centomila iscritti, no, quindi avrei potuto mettermi lì e dire, visualizzare con la legge dell'attrazione e chiamare questi centomila iscritti, sì, però penso che ci sia un bene supremo per noi che va al di là di quello che vuole la nostra personalità e adesso mi sto rendendo conto, per quanto la mia parte egoica continua a essere delusa dal fatto, è un po' amareggiata da questa cosa, la mia parte, quella più profonda o la mia parte più di coscienza sa benissimo che se non sono arrivati questi centomila iscritti è perché il mio percorso è un altro, è perché probabilmente avere centomila iscritti mi avrebbe fatto montare la testa, mi avrebbe fatto smettere di curare certe cose, mi avrebbe fatto perdere un certo modo di fare, non lo so, non lo posso sapere, chissà, non lo saprò mai, però sto cominciando a pensare che evidentemente nel mio percorso di crescita questi centomila iscritti non dovevano arrivare, ok? Quindi anche la legge dell'attrazione mi sembra un po' una cosa un po' bassa, di un livello un po' basso, spero di essermi spiegata. Allora, già da De Renzi, ciao Monica, il corso di Reiki ti ha aiutata a ritrovare te stessa e essere più consapevole? No, no, il corso di Reiki è stata un'esperienza, mi rendo conto che ha smosso energie, infatti non a caso, ora non vi spaventate però, non a caso sia dopo la prima armonizzazione Reiki sia dopo la seconda armonizzazione Reiki io mi sono ammalata. La prima volta ho beccato il Covid, la seconda volta ho beccato un'influenza che sono stata peggio che col Covid e vedendo questa cosa dopo e leggendo anche dei libri ho detto cavoli, è come se queste armonizzazioni avessero voluto ripulire un po' di roba e quindi ecco a livello proprio immediato e fisico la sensazione è che fare questi corsi abbia proprio innescato dei meccanismi di pulitura interiore anche, ma anche fisica e ritrovare me stessa no, ma che c'è da ritrovare? Do so, cioè, non so, no, una cosa la ritrovi quando ce l'hai, io boh, non lo so, mi perdo, mi incarto nelle parole, poi appunto più si va avanti nella ricerca verso una consapevolezza, più si impara a capire anche l'importanza delle parole e più diventa difficile anche comunicare perché tanti modi di comunicare a cui siamo abituati non ci sembrano più veri e trovare un modo di farsi capire agli altri senza sembrare dei pazzi è diventato complicato, quindi è ad essere più consapevole ni, nel senso che comunque il Reiki aiuta a canalizzare l'energia, poi io Reiki su me stessa non lo sto facendo, avrei dovuto tra virgolette farlo, però poi mi sono, sentivo che non era cosa, mi sono chiesta col pendolino, che lo sapete è come fare un, è come i test kinesiologici alla fine il pendolino e tutte le volte mi dice no, no, no e quindi io anche il Reiki lo sto usando spesso per mandarlo nel passato, sento appunto più questo bisogno di fare Reiki a distanza anche nel passato ho già mandato Reiki ad alcune situazioni che mi sono, cioè tipo mi sono svegliata la mattina e ti balena sta cosa, ecco diciamo che il Reiki può aiutare in questo anche ad essere un po' più connessi con la nostra parte, poi per quanto riguarda la consapevolezza, la consapevolezza è un lavoro, è un lavoro quotidiano faticoso, non si arriva mai, perché più diventi consapevole e più ti accorgi delle cose e più c'è da lavorare, quindi a volte ci sono dei giorni che dici cacchio ma chi me l'ha fatto fare? Però poi quando entri in un meccanismo di voler acquisire più consapevolezza di tante cose ci entri, punto, non so se ho risposto già da allora, ultima domanda per questa mandata Mari Chan, ciao Monica, ho una curiosità, ma tu ascolti mai i tuoi video ASMR per dormire o è una cosa strana? no Mari Chan, non li ascolto perché su di me non ho nessun effetto non le voci di tutti non mi fanno effetto, quindi già c'è una scelta, ci sono alcune tipologie di video che mi rilassano di più ci sono alcuni tipi di voce che mi piacciono di più, altri tipi di voce che non mi fanno alcun effetto già quello, però i miei video, la mia voce non mi rilassa, quindi non ascolto i miei video ma anche se faccio i trigger è buffo, perché se c'è, se faccio tapping, diciamo, è tapping, lo so, lo faccio io, non mi rilassa il tapping di un altro, sì, poi sul tapping sono particolarmente stucca però, quindi, no, non li ascolto perché i video che faccio io non funzionano su di me a volte invece ascolto i video quelli che faccio qui per il vlog, più che altro per dire ma anche per feedback visivo, tipo quando sono qui, che mi prendo il gatto, lo coccolo ci mettiamo un po' in polta, a volte dico, ah fammi vedere sulla tv come rende oppure ricontrollo, dico, ma che hai detto perché col fatto che vado così a ruota libera, a volte mi viene il dubbio dico, ma Monica, riascoltati, ma che hai detto, delle cavolate ecco, quelli a volte li riascoltano e mi rendo conto che a volte mi cimbambolo è buffo perché diceva sei scema, ma sei che parli, no, che stai li e ti ascolti non lo so, forse è una forma di terapia, di autocura però ecco, sì, riascolto i miei video, questi chiacchiericci che faccio sempre il vlog, ma i video smr, no, ho bisogno di ho bisogno, io dormo anche senza video, è un piacere è una coccola che mi piace farmi, quindi la sera, ormai da otto anni e più, tutte le sere metto uno o più video di altri creator che seguo bene, io vi ringrazio tanto della compagnia e poi, insomma, se vedo che arriveranno altre domande sotto il post farò un altro video e alla prossima, ciao! a 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